Rubavano a chilometro zero, ossia a poche centinaia di metri dall'appartamento che occupavano nella centralissima via costa a Mestre. E rastrellavano di tutto, da pianole a pallottole calibro 40 a cioccolatini. Sono sei ladri professionisti appartenenti a tre nazionalità diverse, un cocktail di moldavi, romeni e giorgiani. Mai finora la polizia aveva trovato una banda così eterogenea. I furti accertati dagli agenti del commissariato di Mestre sono cinque, quattro commesse dentro automobili. E uno in appartamento. Ma si tratta di una banda di professionisti e non è escluso che siano responsabili dell'impennata di furti registrata in questa settimana nel veneziano. L'età varia dai 33 ai 23 anni nel gruppo, neofiti e pluri pregiudicati. Il capobanda di 33 anni, Giorgiano, ha già quattro condanne per furto, ma in carcere c'è sempre rimasto poco. Ladri professionisti che entrano ed escono dal carcere. E questo è il riscontro che abbiamo avuto dalle loro precedenti attività e dalla nostra banca dati e soprattutto il riscontro che abbiamo avuto tramite le impronte digitali. Effettivamente uno di questi ha avuto più condanne ed è stato più volte arrestato per questo tipo di attività. L'operazione Brugola è stata chiamata dalla polizia perché la gang di professionisti era attrezzatissima con arnesi da scasso prodotti artigianalmente. Con brugole modificate per scardinare porte blindate, grimaldelli di tutti i tipi prodotti da loro stessi. Un fusibile per tagliare porte e finestre e lucchetti. Un martello per i vetri dell'auto. Non lasciavano tracce e per questo agivano nel centro di Mestre a pochi passi da casa senza timore di essere scoperti, nonostante avessero di fronte la caserma della Guardia di Finanza. In realtà di loro si erano accorti finanzieri e carabinieri, oltre che la polizia. Gli agenti per fermarli hanno fatto irruzione nel loro appartamento buttando giù la porta. Ora sono in carcere e devono rispondere di furti, detenzioni di arnesi da scasso e ricettazione. Riteniamo oggettivamente parlando di aver assicurato alla giustizia un gruppo di persone dedicate a questo tipo di reati che effettivamente era pericolosa per la città.